Benvenuti, ben trovati, buon venerdì sera per chi ci segue in prima battuta, nella prima messa in onda di questa trasmissione. Sicilia chiama Europa, il titolo però è Respubblica e oggi ho il piacere di avere in studio il sanatore Maurizio Sant'Angelo, parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Trapanese DOC, ormai punto di riferimento sempre più di questa nostra realtà e non solo. Buonasera a te Nicola e soprattutto a tutti i nostri telespettatori. Purtroppo devo subito, senatore, toglierti il sorriso perché siamo in periodo da due anni di pandemia, adesso ci voleva pure il vento di guerra, io capisco che lì in Parlamento per ora si vivono momenti di grande tensione, no senatore? Sì, assolutamente, diciamo che questa è l'ultima cosa che ci voleva in questo momento per il nostro paese, ma soprattutto anche a livello internazionale, anche perché ti dico, vedendo le evoluzioni anche dalle ultime ore ancora non si intravede una strada che può portare insomma a quei passaggi che possono far arrivare alla pace. si sta lavorando per un cessato del fuoco, almeno che possa consentire a chi vuol lasciare il paese, ai malati, ai tanti bambini che sono all'interno degli orfanotrofi, di poter trovare insomma una sede più adeguata e fortuna, anche perché poi sai Nicola, qui i bambini sono proprio quelli che pagano la spesa più alta, il prezzo più alto rispetto ad azioni come queste, pensare ad una guerra, mi auguro di no, ad una guerra mondiale nel 2022 credo che sia qualcosa che nemmeno i più pessimisti avrebbero potuto ipotizzare. L'Italia dal canto suo sta facendo la propria parte. È chiaro che anche a coscienza, ecco non sei certo delle azioni che stai facendo anche come parlamentari, perché insomma la scorsa settimana abbiamo votato questa risoluzione che invia degli aiuti al popolo ucranio per questi anche armamenti che possano consentirgli di potersi difendere. Quindi certo è un momento molto ma molto delicato anche all'interno del Parlamento. Senatore che sensazione ha avuto quando il Premier Draghi ha convocato appunto intanto il Senato per dare le comunicazioni, beh ciò che è arrivato a noi che guardavamo la diretta era davvero un momento di grande tensione, di preoccupazione e di assoluta serietà. Voi invece che sensazione avete avuto? Mi piacerebbe dirvi qualcosa di diverso, però vi assicuro che la nostra sensazione è stata ed è anche in queste ore di un'enorme preoccupazione. quindi stiamo cercando di dare priorità. So che in queste ore il Ministero degli Esteri sta lavorando all'agremente per cercare, come dicevo prima, nel momento in cui ci sarà questo giustato del fuoco, di poter intervenire e dare come Paese il nostro contributo in termini di accoglienza e supporto. Sono tante raccolte fondi, raccolte beni di prima necessità che si stanno facendo in queste ore per dare menforto, ma anche ai Paesi che sono al confine. La Polonia, la Romania, ecco sono tre Paesi che sono principalmente interessati, quindi anche lì si sta cercando di tessere quella rete che possa cercare di far arrivare in maniera diretta questi aiuti. Nel frattempo nel Sicilio abbiamo Sigone e le Birgi allertate fondamentalmente, no? Certo, anche questo diciamo che non pone l'Italia in una posizione comoda, perché poi ricordiamoci anche lo scenario che c'è al sud del canale di Sicilia, quindi con la zona libica, che è un versante molto molto preoccupante, quindi speriamo che non ci siano escalation e che queste basi possano fermarsi a un momento di allerta e non a qualcos'altro. Grande crisi anche a seguito di questa guerra economica aumentata certamente dalla pandemia. Ora ci abbiamo messo il carico, come si suol dire in gergo. Senatore, come ne usciremo? Lo abbiamo visto tutti innanzitutto pagando le bollette, sono stati rincari non più sostenibili, ora il governo ha già fatto un decreto proprio per attenuare questi rincari, però con tutto l'impegno che può metterci il governo e l'Italia non si riusciranno a zerarli, si potranno ridurre, quindi diciamo che lì l'Europa che in questo momento di difficoltà ha dimostrato di essere un'Europa unita, sono certo che nelle prossime giornate metterà in essere degli strumenti che possano cercare di limitare quelli che possono essere gli effetti in termini di rincari. Abbiamo visto anche il ministro degli esteri Luigi Di Maio che prontamente ha cercato di aprire un dialogo anche di natura commerciale con le altre nazioni che sono fornitori di gas, quindi la parte insomma africana e vediamo anche dalla parte del TAP se si riuscirà, quindi quello potrebbe sicuramente allentare l'attenzione. E poi soprattutto oggi più di ieri bisogna ulteriormente incentivare le rinnovabili perché è chiaro che rispetto a questo potremmo abbattere. Anche se si ipotizza di ritornare al carbone e riaprire le centrali al carbone, intanto mi auguro assolutamente di no, la strada che è stata intrapresa deve essere con le difficoltà naturalmente che ci sono state, deve proseguire, però non può proseguire tornando dal punto di vista della produzione energetica indietro perché poi i danni ambientali sarebbero non più recuperabili che siamo arrivati realmente a questo punto. Poi speriamo, ripeto, che il fronte in Ucraina si blocchi perché notizia di stamattina, stanotte è stata bombardata una centrale nucleare, fortunatamente sono riusciti a spegnere l'incendio. Sì, non proprio la centrale ma proprio l'innovio. È una zona importante, sono dei segnali che preoccupano davvero molto. Ho preciso per chi ci segue, stiamo registrando di mattina, quindi va in onda di sera, magari nel corso della giornata è cambiato qualcosa, speriamo è meglio. Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. Quindi ci stiamo limitando a commentare eventualmente quello che sappiamo fino alle 11 e 10 che è l'orario in cui stiamo registrando. Cambiamo sponda? Sì, sì, vai a ruota libera. Peppino Conte come sta? Che sta facendo? No, il presidente Conte sta lavorando a testa bassa. Io mi prendo la confidenza, Peppino lo chiamano. Conte era quello che durante la pandemia ogni giorno era quasi a casa nostra, era diventato uno di famiglia, quindi mia figlia lo chiamava Peppino e allora lui chiamo Peppino pure io. Sì, è un modo affettuoso. No, sta lavorando a testa bassa nel portare avanti l'incarico che ha assunto, quello di presidente del Movimento 5 Stelle. E non è un movimento semplice da gestire, per cui sta cercando di mettere ordine. Anche gli ultimi, insomma, risvolti giudiziari legali, ecco che speriamo di risolvere prima possibile, hanno un po' frenato questa cosa. Però credimi, Nicola, realmente questo è l'ultimo pensiero che abbiamo tutti quanti. quindi anche sotto questo fronte diciamo che il presidente Conte è in contatto costante con tutti i membri del governo e sta cercando di portare alla sua azione assolutamente di buonsenso e moderata anche all'interno del nostro gruppo parlamentare. Perché, ripeto, la mozione che abbiamo votato questa settimana è stata una mozione che anche all'interno del mio gruppo parlamentare, ma anche gli altri, insomma, ha creato più di un imbarazzo. E quindi diciamo che la sua azione è assolutamente un'azione più che apprezzabile. In questo momento bisogna, al di là delle proprie idee, cercare di essere uniti anche come nazione. Quindi il segnale che deve uscire fuori a tutti gli altri paesi è quello di una nazione che è unita rispetto alle decisioni delicatissime che si stanno prendendo. Beh, da quello che leggo, insomma, sì, il rischio di una guerra mondiale obiettivamente c'è. Se ci fidiamo delle parole di Macron, il peggio deve ancora arrivare, così ha detto, insomma, in conferenza mondiale, praticamente, noi in Italia siamo preoccupati obiettivamente. Sì, certo. Io mi auguro che comunque le durissime sanzioni economiche che sono state prese nei confronti della Russia cominciano un po' a pesare anche su questa azione bellica. Da quello che mi è dato sapere anche all'interno della Russia, diciamo che questa azione è voluta non dal popolo russo, ma è voluta da Putin, non è assolutamente ben vista perché la Russia sta realmente isolandosi rispetto a tutto il mondo. E quindi mi auguro che internamente dal basso possa realmente uscire fuori quella soluzione che magari non si è riuscita a trovare prima. e quindi magari una pressione interna che sale. La resistenza anche eroica del popolo ucraino, stiamo vedendo, cioè le immagini che arrivano sono davvero incredibili, vedere cittadini comuni che cercano di difendersi, magari preparando dei sistemi di difesa rudimentali come una Molotov e così via, cioè è davvero allucinante. Quindi mi auguro che il popolo ucraino resista ancora per poco e poi arrivi questa pace che tutti ci aspettiamo. Va bene, cambiamo pace, se no ci entristiamo tantissimo. La pace del momento è questo, purtroppo il trend comunicativo del momento, ma noi abbiamo anche altre cose da guardare in casa nostra. Partiamo dalla Regione, per esempio, mentre l'attuale Presidente Musumeci sta cercando di quadrare la coalizione per essere rieletto, negli ultimi giorni, capisco anche perché, non ha più sentito parlare di 5 Stelle, Partito Democratico, la coalizione in antitesi a Musumeci del centro-destra, vi siete fermati o state lavorando sotto banco? Assolutamente no, diciamo che anche in queste giornate il dialogo è continuato, io mi auguro che si arrivi prestissimo anche all'ufficializzazione di questo percorso comune che a Roma sta dando ottimi risultati. Ma bene, lo diamo tutti per scontato, ma fino a quando non c'è l'ufficializzazione è giusto. Anche perché sappiamo, Nicola, che in politica, sai, a volte a costruire ci vuole tanto, ma a rispare ci vuole un istante. Esattamente. E quindi mi auguro in questo caso che non sarà... Anche perché, voglio dire, non per... Naturalmente io sono di parte, cioè, questo è fuori di ogni dubbio, però onestamente diciamo che il governo regionale non ha fatto bene, assolutamente no, sotto tutti i punti di vista, cioè ha fallito. È legittimo il fatto che un Presidente uscente voglia in cuor suo ricandidarsi, ma sono stra sicuro che stavolta non avrà la fiducia nuovamente del popolo siciliano. Quindi rispetto a questo mi auguro che l'offerta politica che verrà fuori dalla parte che rappresento sia un'offerta valida, solida e che possa realmente puntare al governo della regione siciliana. In queste ore si sta anche ragionando sulle candidature che riguarderanno il nostro territorio. Io mi auguro che, a prescindere insomma da quello che potrà essere fatto dal Movimento 5 Stelle, ma che gli esponenti, diciamo, di questa provincia, che saranno eletti, possono davvero rappresentare e portare all'interno dell'ARS le istanze di questa zona, insomma, della Sicilia, perché ce n'è davvero, davvero tanto bisogno. Ti dico, ti do uno scoop, questa settimana, e può essere una novità insomma per tanti, ho avuto il piacere di ricevere nel mio ufficio al Senato il dottore Ombra. Ah, mi ricordo, è nato nella mia trasmissione. Grazie anche alla vostra trasmissione. Hai visto? Devo dire, insomma, che è stato di parola, siamo stati di parola rispetto a questo. La piacere è che non è la prima volta che a De Politico troviamo, grazie a quella trasmissione, soluzioni. Sì, sì, assolutamente. È stata, non era preparata, è stata così casuale. Aspetta lo zampino io ogni tanto. Però ecco, ci siamo fatti una bella chiacchierata parlando di territorio, parlando di rilancio dell'aeroporto di Trapani, trovando l'accordo su tanti punti, su qualcun altro no, naturalmente, come sta nelle cose. Ad esempio, in questo momento in Parlamento si sta portando avanti un emendamento, e io sono anche uno dei firmatari, per abolire quantomeno per quest'anno, il 2022, le addizionali d'imbarco per i piccoli aeroporti. Perché è chiaro che questi aeroporti in un momento drammatico come quello della pandemia sono stati, diciamo, gli scali che hanno subito maggiormente questi impatti. E lui ombra, obiettivamente, lo dice da sempre. Sì, sì, qui non si può imbutare alla negligenza o alla cattiva gestione da parte di nessuno. È un dato oggettivo e va riconosciuto. Quindi ritengo che questa possa essere una soluzione per dare la giusta boccata di ossigeno all'aeroporto di Trapani, ma a tutti gli aeroporti piccoli, insomma, che ci sono in Italia. Specificando con forza e determinazione, che è la strada che deve essere perseguita nel nostro territorio, con il nostro aeroporto, è quello di entrare in rete. Se riuscissimo a farlo a livello regionale, a parer mio, quindi un'unica società di gestione, sarebbe la soluzione ottimale. Ma al massimo due, una società occidentale e una società occidentale. E ti dico, anche su questo, stavamo dicendo le stesse cose da anni, però ecco, non si era mai trovato il momento per discuterne. Dico, io non so, l'emendamento, diciamo, non so se riuscirà a passare, perché in questo momento di ristrettezze, diciamo, non so se ci saranno le coperture adeguate, ma se non dovesse essere in questo momento, subito dopo torneremo all'attacco, perché sono convinto che dobbiamo fare di tutto per portarlo a casa, cercando anche di trovare la giusta sensibilità nei membri del governo, nel cercare di darci una mano per trovare le coperture. Quindi questo, diciamo, per il nostro territorio, a prescindere, insomma, da una situazione personale, credo che sia assolutamente una buona notizia. Io credo che le difficoltà che tutti quanti... Certo, potevate mandarcela una foto, però, di questo incontro. Ma, dico, io mi aspetto da parte tua, che piuttosto che una foto ci inviterai qui. Sì, ma la foto del incontro. E parleremo di questo, perché io credo che molti cittadini del territorio vogliono capire e sentire dalle loro. Questo lo farò certamente, ma dire una foto, potevate mandare, oppure farselo sapere prima e dice guarda che veniamo magari... No, no, ho preferito, guarda, ho preferito come spesso è mia abitudine, mantenere il giusto riservo istituzionale. Ecco, però mi sembra corretto, essendo stato un incontro ufficiale, insomma, darne notizia. E l'ho data, insomma, qui a Telesud. Bene. Ho notato che, almeno nel mio piccolo punto di vista e di osservazione, che è quindi limitato agli ospiti che riesco ad avere in studio, politicamente parlando, tra questa trasmissione e l'altra, che si continua, gli altri, no? Continuano a, in un certo senso, demonizzare il Movimento 5 Stelle, però non vi menzionano più, dicono il populismo ha fallito e non è che dicono più il 5 Stelle, quindi continuano a temervi o che cosa? O ormai vi danno per morti e sepolti politicamente? Io non credo che sia stato fatto, diciamo, due volte l'anno in questi ultimi nove anni. Diciamo, abbiamo dimostrato con i fatti che non è così. No, ma forse si è capito, perché poi sai, anche il significato della parola populismo non necessariamente deve avere un'accezione negativa. Assolutamente. Anzi, io sono orgoglioso di essere come parlamentare, come portavoce, un rappresentante del popolo. Quindi, cioè, siamo populisti in questo senso, nel senso che portiamo, cerchiamo di portare e ottenere risultati che vadano a favore della gente. Questa cosa, dentro le istituzioni, l'hanno capita. Anche perché il Movimento 5 Stelle sta facendo un percorso di crescita e di trasformazione che è sotto gli occhi di tutti. Mentre prima eravamo eccessivamente chiusi, oggi invece abbiamo capito che bisogna fare politica con il dialogo e quindi con la massima apertura. Poi magari non si arriva a delle sintesi comuni. Dove avete sbagliato, senatore, in questi anni, politicamente parlando? Guarda, dove abbiamo... La domanda ci sta perché i sondaggi, obiettivamente, per quello che valgono i sondaggi, vi danno... Nicola, non abbiamo veramente, guarda, sono sincero in questo, fatto politica guardando i sondaggi. Anche perché poi alla fine quello che siamo abituati a fare è contare le percentuali dopo il voto. Ma da sempre è stato così. I sondaggi non ci hanno mai dato favoriti. Anche nel 2018 i sondaggi non ci davano al 33%. Quindi rispetto a questo io ritengo che la percentuale attuale del Movimento 5 Stelle sia diversa rispetto a quella che viene fuori dai sondaggi. Poi spesso bisogna pure vedere questi sondaggi come vengono fatti, il campione. Se è un campione significativo o meno. No, c'è una... Quando parlo di trasformazione parlo anche di un movimento che è stato all'opposizione per 5 anni che è diventata forza di governo i 5 anni successivi. Ed è chiaro che quando governi sei costretto anche a fare qualche azione, prendere qualche provvedimento che può essere anche impopolare. Sai, forse... Questo nell'ultimo periodo è un'idea che mi sono fatto. Non so se è un movimento politico, come lo è stato il movimento all'inizio, sia corretto trasformarsi in forza di governo. Forse è lì la problematica più grande. Forse in Italia c'è bisogno di un movimento che rischia sempre di opposizione, in modo da fare da contraltare rispetto a quello che i governi di volta in volta decidono. Forse è quella cosa che serve. E quindi non è tanto... In questo momento perché non è il governo del Movimento 5 Stelle, è un governo... Sì, sì, ma è chiaro. Guarda, ancora peggio. È un governo in questo momento, quindi noi in questo momento stiamo facendo tantissime cose che magari se fossimo stati in un governo politico non avremmo mai scelto di fare. Una delle grandi accuse che si continua a muovere, ora sempre di più capisco perché si avvicinano le varie campagne elettorali, quelle di un certo peso, è sul reddito di cittadinanza. Un fallimento di qua, non è servito a nulla, è solo un modo per favorire ancora la disoccupazione, specialmente mezzo di giorno. Voi lo difendete a spada tratta? No, no, io ascolto quello che dicono i cittadini. Naturalmente se queste critiche vengono da chi ha la pancia piena, da chi non si trova davanti al problema di perdere un posto di lavoro e non avere, diciamo, un reddito per poter tirare avanti una famiglia, è chiaro che non... Il reddito di cittadinanza è vero che va migliorato in alcuni punti, soprattutto alla parte per i centri per l'impiego. E' una parte che non è stata fatta, ma è capitata di mezzo a una pandemia, è chiaro che questo processo che, ripeto, c'è in tutta Europa ormai, debba essere rafforzato e debba andare verso quella direzione. Grazie a Dio che c'è stato il reddito di cittadinanza in questi anni. Ripeto, il Movimento 5 Stelle è attaccato a prescindere. Fino a qualche tempo fa era il primo sport nazionale, ora forse non è più il primo, che però è sempre tra i primissimi, quindi me ne faccio una ragione perché poi sono abituato a vedere i fatti. Conosco tantissime famiglie che grazie al reddito di cittadinanza hanno potuto mantenere quella dignità che qualsiasi cittadino italiano debba avere. Quindi mi basta quello. Poi, sai, se lo sport, anche dal punto di vista politico, è demonizzare un'azione perché è stata fatta dall'altra parte politica e non riuscire a avere la lungimiranza di capire che magari quel provvedimento è un provvedimento che può andare bene e va migliorato, perché non ci sediamo ad un tavolo e da chi è contro il reddito di cittadinanza arrivano le proposte per migliorarlo? Sicuramente non è quello di togliere, sarebbe assolutamente impensabile, anche perché è un passo di civiltà importantissimo per il nostro paese. Quindi, ripeto, chi dice che deve togliere assolutamente non è nei nostri pensieri. Lavoriamo per migliorarlo e mi pare che il governo stia andando anche in questa direzione. Va bene. Andiamo su Trapani. Alla fine chi aveva ragione sull'assistenza del genico personale agli studenti disabili? No, alla fine chi sta piangendo le scelte errate fatte dal sindaco di Trapani sono questi piccoli e le loro famiglie che ancora oggi non hanno potuto soffrire del servizio. Da parte mia, come parlamentare della Repubblica, ho fatto quello che era nelle mie possibilità. Cioè, ho interrogato il ministro in maniera specifica, facendomi portavoce dell'istanza che arrivava non dalle famiglie ma dal sindaco di Trapani. Quindi ho preso la posizione del sindaco di Trapani, ho chiesto al ministro Ministro, questo servizio che per il comune di Trapani non può essere fornito dal comune perché addice delle motivazioni di una sentenza del CGA o di altro tipo, deve essere realmente fornito dal comune o no? Il ministro ha detto che questo servizio spetta ai comuni. D'altro, Nicola, è un servizio che da 39 anni i comuni danno. Quindi non è che è una cosa dell'ultimo anno che è cambiata la legge e quindi c'è un problema. Il problema sta altrove e io non sono riuscito a capirlo. Quindi rispetto a questo, nessuno qui può dire di avere ragione o torto. Io rifiuto costantemente la polemica su questo argomento. Ho subito diversi attacchi e mi dispiace dirlo perché poi il sindaco di Trapani e anche il mio di sindaco, perché sono trapanese, e sentire un sindaco che è in voglia un altro cittadino, in questo caso me, a querelarlo, ritengo che sia un fallimento dal punto di vista politico e c'è un cortocircuito. Un sindaco deve stare a fianco dei propri cittadini e se c'è un problema di questo tipo sedersi ad un tavolo e insieme trovare una soluzione. Il sindaco non ha voluto sedersi ad un tavolo per trovarla, ha rifiutato, tu ne sei testimone, qualsiasi tipo di confronto pubblico che potesse far veicolare la giusta informazione o quantomeno mettere davanti le proprietesi e poi i cittadini a casa farsi la propria idea. Invece lui parla da solo, non ama il confronto. Quindi io ripeto, secondo me qui ad essere sconvitti sono stati i cittadini. Me ne dispiaccio, io rispetto a questo tema lo sto vivendo dal punto di vista anche personale come una sconfitta, perché più di quello che ho fatto non posso sicuramente costringere. Io mi auguro che rispetto alla violazione di una legge nazionale, perché di questo si tratta, rispetto alla interruzione di un servizio pubblico, tutti quelli che possono rappresentare lo Stato nel territorio a partire dal prefetto che ritengo che possa anche prendere in mano la situazione e cercare di sostituirsi dove altri enti sono mancanti. Mi auguro che la Regione, se c'è la possibilità di sostituirsi al Sindaco per quel tipo di servizio, lo faccia. Mi auguro che le forze dell'ordine, perché quello che io sto dicendo pubblicamente da mesi lo ribadisco attualmente, c'è l'interruzione di un pubblico servizio. Mi auguro che la magistratura, so di genitori che hanno pure trovato la forza, la dignità di denunciare questa mancanza di un diritto. Io, dico fino all'ultimo, voglio essere positivista e mi auguro che il Sindaco Tranchida possa tornare sui propri passi. Ogni tanto, signor Sindaco, dire scusa mi sono sbagliato non è motivo di debolezza, anzi. Mi auguro che rispetto a questa cosa faccia un passo indietro. Perché se il problema era di natura economica, bastava dirlo all'inizio, avremmo fatto una battaglia insieme. Anche il numero dei bambini che hanno bisogno di questa assistenza è un tabù. Non si sa. Una madre è stata denunciata per aver riportato quanto detto da un Sindaco in un'altra intervista. Un Sindaco che chiede al parlamentare denunciami se io faccio sta cosa o un Sindaco che dice ai genitori denunciatemi se io faccio sta cosa. Non va assolutamente bene. Ed è un Sindaco che ha eletto con oltre il 70% dei voti di noi trapanesi. Io non l'ho votato naturalmente, ma è comunque il mio Sindaco. Credo che quella sia assolutamente la sconfitta. Più basso di così non possiamo arrivare. Poi è sotto gli occhi di tutti quello che è il frutto della lungimirante amministrazione di questo territorio. Certo c'è chi ha più responsabilità perché da decenni governa questo territorio. ci sono altri che invece di responsabilità naturalmente ne hanno di meno. Quindi io mi auguro che i cittadini possano davvero risvegliarsi rispetto a questo torpore che ha consentito a una classe dirigente locale di poter spadroneggiare e di poter spostare la quantità di voti ancora oggi con una facilità incredibile, facendo passare i diritti per cortesie. Andando a scippare, e utilizzo volutamente questo termine così duro, il voto all'interno dei nuclei familiari perché per vincere un'elezione bisogna fare, sentivo ieri nella vostra trasmissione, la sindaca uscente Daniela Toscano, otto liste. Ma perché fa otto liste? C'è la qualità del progetto che lei sta portando avanti in questi cinque anni e per i prossimi cinque anni è così elevata che bisogno ha di andare a fare otto liste. E ve lo spiego qual è il motivo. Perché poi le elezioni si vincono anche dal punto di vista matematico. Anche i dieci voti presi dentro un nucleo familiare e tolti magari ad altre parti politiche sono fondamentali. Perché poi andremo a vedere che all'interno di quelle otto liste quante persone prenderanno zero voti. Nelle ultime elezioni di cinque anni fa, nelle sue sei liste, c'erano tantissime persone che hanno preso zero voti. Chiediamoci, ma perché uno si candida e non si vota manco se stesso? Può essere che magari non è manco presente qui, può essere che non ci interessa, può essere che magari a secondo del tipo di attività che fa ha diritto alle ferie per il periodo della campagna elettorale. Possono essere tante le motivazioni. Quindi io mi auguro che questa volta i drapanesi, così come hanno saputo fare in altri momenti storici. Non dico che debbano per forza votare col Movimento 5 Stelle, ma faccio un appello soprattutto su Erice, perché insomma sono le prime amministrative, ci saranno anche su Misiliscemi, ora facciamo anche un passaggio su questo. Mi auguro realmente che le forze civiche di questo territorio riescano a superare quelle criticità che non hanno consentito di stare tutte dalla stessa parte. A me Nicola non mi importa se qualche esponente politico è di destra o di sinistra, a me importa parlare di territorio. E ti dico come esponente del Movimento 5 Stelle, ma tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle di questo territorio. Noi non siamo disponibili a fare alleanze scambiando il nostro territorio con quelle che sono le elezioni regionali, per esempio. Non c'è quello d'out des. Io ci metto la faccia, sono disponibile a portare avanti un progetto serio, dalle basi solide per questo territorio, ma che pensi soltanto a questo territorio qui. Io mi auguro, perché le interlocuzioni in questi mesi ci sono state, abbiamo parlato anche con Fratelli d'Italia, abbiamo parlato con Maurizio Miceli, abbiamo parlato con Peppe Guayana, che è il governo qui con Tranchida. Ora, forse ha capito, cioè, con persone che non ci eravamo mai parlati. E forse, ed è una delle cose che ho detto anche al dottore Ombra, ho detto, sai dottore, una delle cose che stranamente accade nel nostro territorio è quello di dividerci. C'è come un'entità astratta, che poi non è nemmeno tanta astratta, che non va a parlare alle persone. Perché quando ti metti a parlare, le cose di buonsenso si possono fare insieme. Ed è quello che noi stiamo facendo anche per queste elezioni ad Eri. Ci stiamo parlando con tutti. Io quindi mi auguro che si... Non è nemmeno un discorso di simboli. Cioè, il Movimento 5 Stelle ci sarà, ma se quel simbolo è un problema per qualcuno, lo togliamo. Lo togliamo. Io non sono come chi... Devo esserci io per forza. Non ci sono io. Io mi prendo il pallone e vado a casa. Quindi mi auguro, spero che nel frattempo che la trasmissione vada in onda non sia troppo tardi, ma mi auguro che anche con Peppe Guaiana, con cui abbiamo stabilito un rapporto politico interessante, si riesca a trovare una sintesi anche con Nino Oddo. È chiaro che... Che più ostico? Guaiana o Oddo? Chi è? Che più ostico? Peppe Guaiana o Nino Oddo? Ma io non ho trovato ostico nessuno, nessuno dei due. Bisogna soltanto avere anche un pizzico di coraggio a volte, no? Perché se rompi gli schemi è chiaro che ti trovi un pochettino disorientato. Forse non lo so, dico, performamenti sì. Ma voi come proposta, la proposta di candidatura sindaca e quella professore Oddo, che abbiamo avuto ieri sera del politico, lo sapete, Maurizio Oddo. Dico, ma voi che idee avete come gruppo che sta sostenendo Maurizio Oddo di territorio ericino? Riusciamo a condensarla in poche parole per quello che si può fare? Guarda, già nel 2017 la nostra offerta politica proponeva un programma molto interessante, perché in quell'anno si è andato a votare a Trapani ad Eri, cioè a Trapani c'è stato il caos, si è andato a rivotare all'anno successivo. È quello di un territorio unico, che non significa grande città, che non significa aumentare questo e quell'altro, significa trattare quel territorio nella sua unicità, che non è un'idea rivoluzionaria, è la storia che ce lo dice. Quindi rispetto a questo io sono convinto che se c'è un discorso di rettifica dei confini o di fare una grande città, tutto devono essere cittadini, quindi nessuna parte politica. Va fatto in un momento diverso rispetto a quello delle campagne elettorali, non assolutamente in questo momento. Ma vi dico, è così impossibile che due sindaci nel programmare e progettare le proprie città si parlino? Perché di cora sventoleranno ad esempio ad Eri c'è quest'opera faraonica, che è quella del Campobianco. Peccato che se passi dalla Litorania vedi l'effetto wow con le luci e così via. Se passi dall'altro lato trovi Beirut. Quindi anche io, se andiamo a poca distanza Nicola, ma c'è il Campoboni pure. E allora è possibile che non si riesce a fare sinergia? Possibile, dico, che quel tratto di pista ciclabile, anche su quello della pista ciclabile, mi piacerebbe capire se la sindaca di Eri c'è sulla pista ciclabile, che è costata tanti soldini a noi cittadini. Ma lei ci è mandata su questa pista ciclabile? Non l'ha mai fatta una passeggiata con la sua bicicletta? Magari con la pedalata assistita, perché capisco che pure per me non è facile essendo cittadini a sé. Ma l'ha mai fatta? Secondo me no. Ma lo sa perché? Perché non esiste. Lì sono stati sprecati soldi pubblici. E prima di realizzarla veniva decandata, come è stata fatta ora, arriverà quel contributo di 600 mila euro. Ma poi che ne abbiamo fatto? Quindi dipende come si spendono i soldi. Un territorio che non ha un progetto, ma in quel territorio arrivano una serie di finanziamenti a casaccio, perché non fanno parte di un'unicità, di un'idea di programmazione del territorio. I risultati sono la pista di Eri c'è, i risultati sono le strisce pedonali a Trapani. Ma voi pensate al sottopassaggio che cosa ne sarà? Se quella è la qualità progettuale, che questi amministratori... Il sottopassaggio sarà De Manio di Trenitalia a realizzarlo tecnicamente? Sì, sì, tutto quello che vuoi. Guarda, io ho i brividi. Poi anche da architetto ti dico che dal punto di vista tecnico ho molti dubbi, però non voglio demonizzare un'opera, perché insomma mi riservo di vederla più attentamente. E mi auguro in questo di essere smentito dei fatti, che si realizzeranno a tempi prestabiliti in pochissimo tempo. Però quella delle strisce pedonali, ragazzi, rispetto a questo io credo. Quindi rispetto a questo io credo che non possono esserci più proclami di una parte politica di dire siamo bravi nel fare questo. No, perché poi alla fine sono smentiti immediatamente da quello che noi viviamo nel territorio. Vantarsi di dire ho realizzato l'impianto fotovoltaico su una scuola, ma credo che sia una normalità, anche perché ci sono tanti finanziamenti, che grazie anche al Movimento 5 Stelle, a Giuseppe Conte, ai nostri governi, anche ai governi fatti con il PD, siamo riusciti a portare avanti. Quindi mi sembra il minimo per riuscire a fare. Avere un servizio di scuola bus, il problema è il contrario. Cioè questi amministratori così lungimiranti hanno fatto sì che una parte del territorio trapanese si sia staccato da Trapani. Trapani oggi ha meno abitanti pure rispetto a Marsala. E quindi, cioè, ma tu come puoi ancora venire a propinarmi queste idee rispetto a quello che è un territorio che non hai fatto crescere? E ripeto, attenzione, non è che hanno fatto tutto malissimo, qualcosa di buono l'hanno pure fatta, ma poco probabilmente, probabilmente poco. Quindi io rispetto a questo, anche ad esempio su Misiliscemi, ti ricordi? Ma si vota intanto Misiliscemi o no? Ancora non sappiamo nulla. Ma non sono pronti. Ancora non sappiamo. Lo stanno dando quasi gli altri, lo stanno dando per scontato. Però ti dico, rispetto a questo invece il Movimento 5 Stelle sta facendo un'operazione di buonsenso. Sta facendo un'operazione di buonsenso insieme con l'ex associazione di Misiliscemi, ora Movimento Politico. Abbiamo dato la nostra disponibilità a supportarli. Abbiamo chiesto se c'è possibilità di mettere anche un candidato dentro la loro lista. Io spero che si trovi lo spazio. Se così non dovesse essersi, non cambia nulla. il Movimento 5 Stelle sarà al fianco di questa nuova amministrazione perché sono convinto che il loro progetto, che non era un progetto che io appoggiavo, anzi sono andato a votare no a quel referendum, dichiarandolo prima e pubblicamente. L'idea di separazione non la si condivide, per il progetto però alla fine sembra... Assoluta, ma io mi ci metto a testa bassa a lavorare, a supportare la nuova amministrazione e quelli che saranno, insomma, il nuovo sindaco, quello che sarà. Questo perché? Perché vogliamo rompere dal punto di vista culturale uno schema che è sin troppo facile. Io ti faccio questo se tu non mi dai l'altro. E lo sto facendo, credetemi, proprio in questa modalità con la quale vi sto dicendo. Nei dialoghi che ci sono stati non è passato a nessuno in mente dire guarda io ti appoggio ma che fa, mi metti quattro candidati oppure che fa, mi dai due assessorati? No, non c'è stato. Ho messo a disposizione quello che può essere il nostro know-how anche in questo territorio, essendo partito da un po' di tempo. Ho messo a disposizione quello che può essere la nostra rete parlamentare a tutti i livelli e credo che per una giovane e eventuale amministrazione sia un passaggio importante. Va bene, senatore. Purtroppo il cambiamento culturale, Nicola, anche in questi anni forse non ce ne siamo accorti, però piano piano lo stiamo portando avanti. Pian pianino, le cose a distruggere è facile, basta schiacciare un bottone a volte, costruire invece richiede sempre più tempo. Dobbiamo chiudere però questo nostro incontro. Grazie, senatore. No, no, grazie a te per lo spazio e un saluto a tutti degli aspettatori. Noi non abbiamo finito perché abbiamo una breve seconda parte, parliamo di cultura, a proposito di cambiamento culturale, sembrava fatta apposta. Adesso un breve stacco e riprendiamo la trasmissione. Eccoci qua con la seconda parte di Respubblica Sicilia Chiama Italia. Abbiamo appena salutato il senatore Sant'Angelo. Vi ho detto che avremmo parlato di cultura e che cultura, perché ho il piacere e l'onore davvero di avere in studio il maestro Marcella Crudeli. Grazie per essere qui, grazie davvero che si accompagna con un altro maestro Vincenzo Marrone d'Alberti. Grazie ad entrambi per aver accettato il nostro invito. Perché sono qua? Perché domani pomeriggio alle 18 si apre una nuova stagione concertistica e il maestro Crudeli ci delizierà come evento inaugurale con le musiche di Mendelssohn, Schubert, Chopin, no? Alle 18 a Palazzo Dalì. Beh, questa organizzazione inizia proprio con i fuochi d'artificio, si potrebbe dire. Maestro D'Alberti. Sì, tanto buonasera e grazie per l'invito. Grazie a voi per aver accettato. Sì, oggi inauguriamo l'associazione culturale e musicale Travani Classica, associazione che è nata da già un progetto che due anni fa avevo fatto con l'assessore della cultura e dunque con la dottoressa Dalì, organizzando il primo festival pianistico. Dal successo proprio della scorsa edizione e dal mio ritorno a Trapoli, perché sai Nicola che io da febbraio scorso sono professore ordinario a Palermo, adesso posso dedicare tempo al mio territorio e così con un gruppo di amici straordinari, mia sorella Giacometta Pianista, il senatore Bocchino che è vicepresidente e altri intellettuali della nostra città, abbiamo deciso di dare un contributo forte alla città. Siamo in un momento in cui la cultura non è mai sufficiente e allora mi sono reso conto che da uomo che è cresciuto con i libri e che ha dato a me stesso la gioia di imparare e di stare a contatto con realtà positive, belle, dove si può vivere bene, mi sono reso conto che la cultura crea differenza. Mia madre, da buona insegnante di Latina, mi diceva sempre che cultura viene dalla parola colere, cioè coltivare. Dobbiamo imparare a coltivare tutto quello che c'è attorno e di renderlo in un certo modo. e allora l'esigenza di una nuova associazione, Trapani, vive di tante realtà musicali importanti, però appunto dobbiamo fortificare ancora altri aspetti che sono stati un po' ultimamente, come dire, non dico trascurati, ma che hanno bisogno di una certa spinta, diciamo un po' così. Beh, questa spinta arriva a Supersonica, hai portato il maestro Grudeli. Sì, chiaramente il piacere e la gioia di circondarmi adesso con il mio ritorno a Trapani di tutte le eccellenze che ho conosciuto nel mondo. Chiaramente per me è un onore stasera avere qui Marcella, perché Marcella è considerata la più grande pianista italiana della sua generazione, è un lustro e un vanto per il nostro territorio e soprattutto è ancora, da un punto di vista simbolico, io la chiamo una donna guerriera, ma a guerriera della luce, della pace, della forza d'animo. Suona il pianoforte alla sua giovanissima età, come se fosse ancora una ragazzina, con lo stesso doppiglio, con la stessa forza, e per me è una gioia, mi sono oggi emozionato di incontrarla qui. Dunque volevo ancora aggiungere che l'associazione Trapani Classica nasce però in sinergia appunto con altre sigle importanti della nostra città, quali l'Ente Luglio Musicale e l'Assessorio della Cultura, Trapani capitale delle culture mediterranee, con il conservatore di Stato, il dottorio Scontrino. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare spazio soprattutto ai giovani. Allora, intanto inauguriamo con un simbolo fortissimo, come fonte di ispirazione, e poi ci sarà una serie di giovani pianisti che si confronteranno con i nostri studenti delle nostre scuole superiori. Cioè è un po' come dire il giovane studenti di liceo che cerca di trarre ispirazione con un ragazzo della stessa età che fa già carriera e che gira il mondo. Assolutamente, beh è un confronto di tutto rispetto che serve ad arricchire, insomma a far crescere appunto i nostri giovani. E basta, ascoltiamo il maestro Crudeli. Lei ha fatto 3.000 e passa concerti un po' dappertutto, ha girato l'Europa e il mondo. Le mancava Trapani però, ma gliel'hanno fatta girare un po' almeno? No, 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 non mi mancava perché io molti anni fa, sono stata tantissimi anni fa a Trapani. E mi ricordo proprio il carissimo qui presente Marrone, mi organizzò lui stesso, quando era ragazzino con i capelli lunghi, mi organizzò un concerto. Quindi per me è un ritorno graditissimo dopo moltissimi anni e un ringraziamento particolare di aver pensato a me di inaugurare questo bellissimo festival, un festival che, come diceva giustamente lui, è dedicato non soltanto al pubblico che interviene, chiaramente sarà spero numeroso, ma soprattutto ai giovani, perché in me è fortemente sentita la vicinanza e la voglia di aiutare questi giovani talenti, perché dobbiamo lasciare anche un'eredità bella, quindi bisogna cercare di coinvolgerli, sia naturalmente insegnando loro, avere delle scuole ottime, come le abbiamo in Italia, qui presente c'è Marrone che ha un'ottima scuola pianistica, e soprattutto anche cercare di coinvolgerli, come dicevo prima, nei concerti, aiutarli, perché non basta soltanto, come dicevo, avere il talento. Il talento è una delle cose. Poi ci sono tanti talenti, dico io, collaterali al nucleo centrale, perché se non si suona bene, è chiaro, non se ne parla. La buona salute, la forza di volontà, il saperci fare, il spirito di sacrificio, tante cose, perché lei quando mi diceva a tanti concerti, sì, ma bisogna avere anche salute, perché se lei parte da Roma e va a Nuova Zelanda, che è notte, giorno, inverno, estate, lei deve in un giorno avere la possibilità di ritemprarsi, rimettersi in sesso, per poter poi presentarsi al pubblico. Quindi tutto questo bisogna dirlo ai giovani, insegnare loro, quando ci dicono, ah, mi sento stanco, devi suonare anche quando sei stanco, devi imparare anche questo. Assolutamente sì. Comunque è molto bello questa attività, io mi volevo la regolare molto con il carissimo collega, e con sua sorella, perché trovo che queste attività siano benemerite. So quanto sia difficile organizzare e creare queste associazioni, perché è la cultura che bisogna certamente attivare, potenziare, ma queste associazioni sono una nicchia, è una cenerentola, noi siamo purtroppo. Quindi bisogna tirare fuori e cercare di coinvolgere il pubblico e coinvolgere i giovani, il pubblico, e andare avanti con determinazione, anche se è un momento certo non facile. Prima abbiamo avuto il Covid, adesso abbiamo la guerra, ci sono sempre problematiche che indubbiamente frenano anche l'attività. Però è bello. A proposito della guerra, la musica è un linguaggio universale certamente, ma è un linguaggio di pace, no? Cosa possiamo trasmettere? Voi musicisti in questo periodaccio di guerra, cosa si può trasmettere? Cosa potete trasmettere? Vuoi rispondere tu? No, no, aspettiamo prima e poi... Ah, io che trasmettere, trasmettere il messaggio culturale che senza la cultura non è un paese civile, è un fiore all'occhiello per qualsiasi paese civile che ami la cultura e che porta avanti il messaggio perché senza questo è una cosa arida, non esiste per la formazione anche cultura e musica, in questo caso è musica, per la formazione del carattere, della personalità. Si impara molto, capisce? Quindi il messaggio è quello di andare avanti, non demordere, spirito di sacrificio, determinazione e soprattutto una cosa, tanto amore con la maiuscola. Assolutamente. Perché è quello che determina tutto. E voglio aggiungere una frase che io amo questo filosofo da sempre, Spinoza, che mi ha colpito e che è un po' il motto della mia vita. Diceva che, a proposito della pace e della guerra, no? Diceva la pace non è assenza della guerra, è una virtù dello spirito, è una sorta di inclinazione verso il bene e la giustizia. E sono parole molto, molto forti perché mi sono sempre chiesto da bambino avere dentro di sé il senso del bene, come si fa, come si costruisce, qual è l'etica oggi da dove proviene. Una volta la buona educazione veniva affidata al clero. Oggi con la corsa al potere, al denaro, alla vita facile, c'è una sorta di idiosincrasia tra quello che noi vorremmo essere da un buddista di, come dici tu, Marcella, di amore e di... Ma non è sufficiente. Io, guarda, Nicola, ricordo l'intervista di due scienziati tedeschi 25 anni fa, ascoltavo la radio e ero a casa mia a Francoforte e dicevano è incredibile come l'uomo oggi possa andare sulla luna, possa scoprire, possa da una particella come l'uranio creare una bomba di distruzione di massa, ma magari le stesse persone hanno difficoltà a comprendere ancora un testo di Aristotele o di Platone. Cioè, come dire, la nostra società è cresciuta tantissimo da un punto di vista come dire, razionale, sviluppo tecnologico a scarico dell'umanistico. l'industrializzazione, ma la cultura, l'etica di persone è rimasta indietro. È vero. Ecco perché oggi mi sento, intanto sono onorato di avere a fianco a me, comunque a casa, a Trapani, un gruppo di persone straordinarie e credimi, sto ritrovando tanta solidarietà in questo grande progetto. Cioè, è un arricchimento per la città. Noi vogliamo fare per il bene collettivo. Senti, a proposito del progetto, mi piace l'idea, la scelta di organizzare questi concerti dentro il palazzo comunale della città. Alcuni. È un modo per riempirlo proprio di cultura al di sopra. Anche lì, la politica, la buona politica, la politica perché la casa del cittadino dobbiamo recuperare anche il senso della politica come mestiere nobile. Perché oggi, direi che sono un politico, oddio, è quasi diventata una sorta di quasi di degrado. Invece no, è un mestiere più nobile, diceva Platone. Addirittura, lui sperava che, diceva, nel sottrattato della Repubblica, che il vero politico deve essere lontano da tutte le forme di corruzione, deve fare un percorso di rinnovamento dello spirito affinché possa diventare un uomo super partes capace di poter governare e di fare il proprio lavoro per i beni della collettività. Per cui, ci sono messaggi abbastanza, come dire, forti. Allora, chiaramente, da concertista, da intellettuale, possiamo dire così, insomma, una parola molto molto impegnativa, ma io ne sento personalmente il dovere, il dovere di poter aiutare gli altri. Non è una, non è una, vuol dire, una sorta di finita retorica, no? Abbiamo bisogno di tutto questo e mi auguro che questo sia possibile. Ora, la musica, la musica è chiaramente un linguaggio universale, come hai detto tu, la musica, la forma è più alta di comunicazione e la coscienza dell'universo, diceva Schopenhauer. Per cui, come dire, è il linguaggio stesso dell'universo, è il linguaggio stesso dell'universo, addirittura, che va proprio di pari passo al mondo delle idee. E allora, mi auguro che questo sia un messaggio di pace per l'umanità, dove oggi, in questo momento, ci ritroviamo in Europa come una guerra. E io trovo che sia il fallimento della nostra cultura occidentale. No, Marcello? Non ne parliamo. Con cosa ci delizierà domani come di giorno? Domani io eseguirò dei sei romanzi senza parole di Mendelssohn, sono in tutto 48, ne tanotte appunto saranno sei, poi eseguirò l'integrale dell'Opera 90 di Quattro Improvvisi di Schubert, la prima parte, e la seconda parte le variazioni brillanti di Schopenhauer per l'Opera 12, la quarta ballata, fa minore, sempre di Schopenhauer, e chiuderò con l'andante spianata e grande polacca brillanti Opera 22, sempre dello stesso autore polacco. E il tutto durerà? Il tutto durerà, beh, dunque, la prima parte 45, durerà sull'ora e mezza, l'ora e venti. E non si stanca? No. E che lei è giovanissima, se facciamo il confronto con il maestro D'Alberti, lei è giovanissima rispetto a lui, non si stanca per niente. No, io volevo dire una cosa, una considerazione che mi hai in mente. A proposito dell'educazione musicale e dei cicli storici, perché adesso c'è un progresso nella tecnologia, certamente nella tecnologia, fantastico e benvenga, è un regresso delle arti, questo è il tipico, e quindi i cicli storici c'è. E soprattutto un regresso anche, in questo senso, da vedere con più attenzione, le scuole, le scuole interpretative, perché tutto questo è finalizzato quando la formazione dell'allievo, e che non è bene, ha un tecnicismo spinto, guardiamo gli orientali, solo tecnica, ma la tecnica è un mezzo per fare musica, quindi non è quella, non è la grandissima velocità spinta all'eccesso che fa il bravo pianista, fa il bravo artista, che è differente, uno può essere pianista ma non artista, ma la sensibilità che uno mette nell'interpretazione attraverso la tecnica. La tecnica è un mezzo, ma non è un fine. Quindi se non ci mettiamo il cuore, come si può dire, l'interpretazione, la profondità espressiva, la fredda tecnica non basta, sarai bravissimo, ma non affacci, non prendi la platea, tutto questo e il riallaccio è perché c'è questo avanzamento in maniera, in pochi anni, di questa tecnologia fantastica e le arti ne hanno subito. Guardiamo i quadri, guardiamo le sculture, guardiamo le composizioni musicali. Quanto rimarrà la storia, quelle cose di oggi, non si sa. Il tempo sarà grande giudice. Me lo racconta il momento più bello della sua carriera? Il momento più bello della mia carriera? Beh, ce ne sono stati tanti. E scegliamone uno. Uno, a caso. Posso dire questo, Romania, Craiova, che è un grosso centro di Bucaraci, perché organizzavano, quando c'era ancora altro regime, organizzavano le agenzie di Stato anche in Russia. Molto bene, perché come il GOS Concerti in Russia, perché facevano suonare in grandissimi centri e poi anche in piccoli centri lontani, perché è giusto che l'artista vada anche a suonare per piccoli, in piccoli centri, anche di fronte a persone che magari si avvicinano alla musica per la prima volta. A Craiova, in Romania, ricordo il concerto di Grigero, un matinee per pianoforte orchestra, solista, la religiosità di alcune, sono stati un 5, 6, 7 file, tutte, che operavano la terra, quindi insomma, perché contadini, col fazzolettino in testa, che ascoltavano religiosamente il concerto. Questo che cosa significa? È una cosa che mi ha profondamente colpito. è la cultura alla base di tutto, perché queste erano abituate ad ascoltare i concerti. Non è che era la prima volta, ma i popoli veramente musicali hanno delle scuole, perché non è detto che tutti debbano fare il pianista o il concertista, ma devi anche trasmettere al pubblico un minimo di infarinatura musicale, per poter poi ascoltare meglio i brani che gli interpreti suonano. Capisci? Allora, è le scuole che bisogna anche rivedere, tante cose nelle scuole, perché attraverso questo, questo mi ha commosso, queste persone semplici col fazzolettino che ascoltavano non si muovevano. Marcellà. Popoli fantastici, come adesso a Barsavia, in occasione del concorso, grazie, possiamo lasciare, internazionale, quando lei entra e ascolta il concorso di un sialisti, questo grandissimo concorso internazionale di Barsavia, lei entra in un tempio religioso, non si muove una mosca, per così dire, cioè le persone, io per esempio stavo vicino, ho fatto leggermente questa mossa, guardi, non esagero, subito mi ha guardato con tono, perché ascoltano questi giovani provenienti da tutto il mondo con una religiosità, un rispetto, per le loro interpretazioni, gente, ragazzi, che si cimentano con l'intento di avere anche un premio, forse, non è detto, ma è il modo, è l'impostazione, l'impostazione della cultura nelle scuole, l'impostazione nell'andare al concerto e non sgranocchiare la caramella o chiudere la borsetta, ma avere il rispetto verso quello che uno fa, che lo fa con tanto sacrificio e tanta dedizione, sia giovani che vecchi. E allora facciamo in modo, qua parlo a chi ci sta seguendo, trapanesi e non solo, perché se volete anche da fuori i confini della città di Trapani potete andare a godervi questo spettacolo unico, facciamo in modo che possa ricordarsi di Trapani come una platea dove il rispetto, la religiosità, la spiritualità l'ha coinvolta, l'ha fatta diventare un tutt'uno con la nostra comunità. Domani ci sarà certamente. Abbiamo già soldato. Invitiamoli, trapanesi, maestro D'Alberti. Sì, vi invito virtualmente perché fortunatamente in pochissimi giorni la sala sudano è già sold out, per cui diciamo che il pubblico inizia a rispondere quando il livello è di grande, di grande, il livello è grande, è alto e la stessa cosa l'abbiamo vissuta quest'estate con l'anteprima che era il concetto di Alexander Romanowski dove abbiamo avuto i sold out anche a teatro di Segesto. il progetto della Tramoni Classica che a quell'ora a quei tempi era rappresentato da me adesso si è concretizzato in una vera associazione ma non mi aspettavo di riuscire a riempire il teatro. Diciamo che sei partito male guarda perché se andiamo con lei le prossime edizioni dobbiamo provare ad eguagliare superarla non lo so se ci riuscirà ma a eguagliare parto bene perché ho la fortuna di essere circondato nel mondo da tante persone che mi vogliono bene che io voglio bene come Marcella per cui questa sinergia questa sono cose che ci saranno sempre e ti assicuro che i giovani pianisti verranno a suonare qui per le scuole e anzi al conservatorio lo scontrino volevo anche a proposito ringraziare Elisa Cordova la direttrice che mi ha che mi ha accolto che ha accolto il nostro progetto ci saranno una serie di straordinari talenti non vediamo l'ora di goderceli tutti grazie intanto voglio aggiungere qualcosina voglio ringraziare gli sponsor della Tramani Classica che sono la Liberty Lines la tipografia Grillo e l'azienda Cassarale Vini una parruccheria lui e lei no te li metti non me ne vogliono gli sponsor ma saranno tanti vi ringraziamo coralmente io vi ringrazio perché hanno risposto al nostro appello anche economicamente perché noi siamo una nuova associazione abbiamo già avuto anche un contributo dal comune siamo lieti di essere accolti con tanto amore si parte con i piti giusti dai ah meglio si parte con le note giuste con le note giuste grazie maestro e sore Vincenzo Marone d'Alberti grazie grazie davvero grazie a lei sono lusingato di averla avuta in studio con me maestro professore Marcella Crudeli signori un nome una garanzia l'arte negli studi di Telesud grazie ancora grazie a lei questa è stata Respubblica Sicilia chiama Europa anche con la musica la chiamiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti